Sì, è stata una bellissima stagione, sono molto contento, ho fatto comunque degli ottimi risultati, un bel salto di qualità e niente, è il primo passo di una lunga carriera. Tutto ciò è stato possibile anche grazie al rapporto con Oscar Buriese e al tuo nuovo coach spagnolo, raccontaci il rapporto fra i due. Abbiamo un rapporto speciale, nel senso, tra virgolette, sembriamo come due fratelli, lui è il fratello maggiore e io sempre quello minore. E quindi nel senso, ci troviamo bene, parliamo spesso di tennis, parliamo di tante cose, mi aiuta in tante cose del tennis, altre della vita, è un bellissimo rapporto, sono davvero molto contento. Ora, stagione alle spalle, dove svolgerai la preparazione invernale? La preparazione invernale la svolgerò, adesso sono andato qualche giorno a Roma, qui alla Room Tennis Academy, poi andrò, oggi pomeriggio torno a Madrid e poi verso il fine settimana vado ad Alicante. Ecco, perché la scelta della Room Tennis Academy? Oggi ti abbiamo visto in campo Jacopo Berrettini, come ti trovi qui? Andrò molto bene, comunque è bello avere dei campi in cemento vicino a casa, avere una struttura, un'accademia così vicino a casa, comunque ci sono tanti giocatori, tanti maestri buoni, bravi. E sono davvero contento di quello che è avvenuto fuori e spero che possa durare a lungo e che possa arrivare tanta gente. E dove direttemo l'opera nelle prime settimane di gara del 2019? Sto vedendo dove potrei entrare, però sicuramente giocherò le quali degli Australian Open. Grazie. A voi, ciao.